Attrazioni per i bambini e tanto altro per gli adulti, Bimbo Days arriva nel centro città il prossimo fine settimana. Ma non solo attività ludica, la manifestazione ha l'obiettivo di aiutare i bambini più deboli. Il vero scopo di Bimbo Days è quello di raccogliere fondi destinati all'acquisto di materiale utile nei reparti di pediatria, infantile e genetica medica dell'ospedale Moscati di Avellino. Così ha spiegato uno degli organizzatori, Sergio Trezza, che questa mattina ha presentato l'evento nella Sala Grasso della provincia. Ho sempre dato una dritta, quella di dare una mano a chi ha più bisogno, ai bambini che sono in difficoltà. Due anni l'abbiamo dato, una parte del contributo alla fibrosicistica. Lo scorso anno è bambine vittime di femminicidio, quest'anno con l'ospedale Moscati cercheremo di dare un contributo per l'acquisto di materiale ai reparti di pediatria, neuropsichiatria infantile e genetica comune, proprio per cercare di portare un sorriso a chi ha più bisogno e chi ha in difficoltà. Quindi l'evento ludico, quello che realizzeremo sabato e domenica, è solo il clou della progettualità, ma la finalità è diversa. L'evento invece, in sé per sé, per i bambini che si divertiranno, è un villaggio che nella mia vita non l'ho mai realizzato. Credo che sia uno dei villaggi più belli che abbia realizzato quest'anno, perché ho cercato di prendere il meglio che il mercato nazionale potesse offrire per questo tipo di eventi. Non so se ci sono riuscito, però da parte mia e da parte di tutti c'è la passione, l'umiltà di dare un contributo alla nostra comunità, perché Avellino è la nostra città, la piazza Garibaldi si presta a questo tipo di iniziative, è una città che merita molto di più. Sono convinto che l'amministrazione che ci sarà sarà molto sensibile a questo tipo di iniziative, perché li conosco, quindi mi auguro, l'augurio non deve essere una certezza. E poi vorrei ringraziare due persone in particolare, tutti gli sponsor che mi hanno dato una mano.